Bettole e la Valnure hanno ricordato i 21 giovani barbaramente uccisi con un colpo di pistola alla testa a Rio Farnese il 12 gennaio 1945 per mano di un ufficiale nazifascista. Come ogni anno è stata una celebrazione sobria ma sentita, promossa da comuni di Bettole ed ampi Piacenza per non dimenticare il passato e per difendere l'eredità di quei giovani, la libertà e la pace in cui credevano e per le quali si sono battuti. A causa delle norme anticontagio la commemorazione è avvenuta in forma ridotta, prima nella sala consigliare di Bettole e poi al monumento di Rio Farnese che ricorda l'eccidio. Vi hanno preso parte i rappresentanti di Ampi, delle amministrazioni di Bettole, Farine e Ponte dell'Olio, gli Alpini di Bettole, la dirigente dell'istituto comprensivo Valnure Carla Busconi. La Valnure ha dato tanto alla resistenza, ha ricordato il sindaco di Bettole Paolo Negri, e proprio l'icidio di Rio Farnese figura tra le motivazioni che hanno portato al conferimento della medaglia d'argento o il valore militare al Paese. La società democratica e libertaria che abbiamo davanti, ha detto il presidente dell'Ampi Piacenza Stefano Pronti, è un'eredità che dobbiamo difendere ogni giorno, difenderla dall'oblio e dall'ignoranza. Oggi quei 21 giovani sono ancora un esempio di assunzione di responsabilità.